Via libera della terza commissione consigliare di Palazzo Cesaroni alla proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale sulle autorizzazioni al funzionamento dei servizi socioassistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale, astenuto il consigliere di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini. Si tratta di un regolamento che consente di dare piena applicazione alla legge 26 del 2009 definendo le strutture di accoglienza sociale rivolte a persone adulte anche con figli a carico che vengono a trovarsi in situazioni di disagio e marginalità sociale. Previste le comunità di accoglienza sociale sono residenze a bassa intensità assistenziale e con bassa complessità organizzativa e le strutture di pronta accoglienza, strutture residenziali caratterizzate da elevata flessibilità organizzativa atte a soddisfare in modo immediato e temporaneo i bisogni primari di soggetti adulti privi del supporto di una rete familiare adeguata. L'intervento della commissione riguarda il personale operante nelle strutture e i requisiti tecnici richiesti, dovrà essere indicato un responsabile della struttura anziché un semplice coordinatore come da proposta giuntale e si richiede alla giunta di valutare in che modo favorire l'inserimento fra gli operatori anche di giovani alla prima esperienza, osservazione formulata dal consigliere Rocco Valentino sulla proposta di regolamento che invece prevede almeno due anni di esperienza sul campo. Inoltre raccogliendo le richieste fatte in audizione da caritas e cooperative sociali che gestiscono strutture piccole come ad esempio le case famiglia, la commissione ha chiesto che i requisiti strutturali di riferimento siano quelli per le civili abitazioni per non precludere con una normativa troppo stringente la possibilità di continuare ad operare.